Letizia Moratti ha partecipato alla mala gestione della sanità e ha votato a favore di tutti i progetti della giunta fintana, si è riconosciata della giunta fintana quando Satin, Doni, che tra loro ha deciso che non fosse lei la candidata a Presidente, di occupare una persona diciamo dalla scarsa proprietà proprio sui temi della sanità, ma è stata assessore alla sanità, non è che si occupava d'altro, però sinceramente non vorrei occuparmi io per i prossimi mesi della faiettoria politica che si è morato, io ho anche una grande determinazione che voglio cambiare e per il cambiamento c'è bisogno di scelte diverse e di persone diverse, non da anamorabili non sono persone diverse essendo quelli che hanno gestito tutto in questo mese. La sua progettoria politica comprende anche Cinque Stelle? Sto dicendo che ci sarà un conconto, vediamo, a me piace lo scambio di idee e un conconto sulle opinioni, loro hanno detto confrontiamoci sulle idee che mi sembra un buon punto di partenza, devo anche dire che sono convinto del fatto che i Cinque Stelle non vado né demonizzati né inseguiti, come ho detto dall'inizio sono convinto di questo, quindi facciamo questo conconto nei prossimi giorni, e comunque andiamo un attimo per il governo delle progettazioni.